Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sicuramente di alta curiosità perché vogliamo sapere di più sulle nozze tra Carolina Crescentini e il marito Francesco Motta, che non sono state quel che normalmente si definisce un matrimonio da faula, insomma quello che si aspettano un po' tutti, infa almeno nei pensieri. Diciamo che sono state quanto di più vicino possibile a nozze segrete più che altro, cioè molto al di fuori dai sguardi indiscreti, anche se a dirla tutta sarebbe meglio catalogare il loro matrimonio come una romantica fuga d'amore, pensiamola così. Dopotutto, chi ha detto che l'unione di una coppia debba avvenire in modo canonico tra ricevimenti, invitati, che tanto se sa quelli vengono solo per magnà, e allora il romanticismo possiamo dire che è soggettivo alla fine, esattamente quanto è la libertà individuale. Crescentini e Motta fanno parlare di sé da molto tempo, fin da quando la coppia uscì allo scoperto nel 2017, principalmente per via della loro differenza di età, classe 1980 l'attrice, sei anni in meno per il marito. Sarebbe superfluo anche solo dirlo, ma l'amore è amore e l'età un semplice numero. Questa la tesi sostenuta da sempre dalla coppia, sempre più felice e unita. Francesco Motta e Carolina Crescentini si sono conosciuti nel 2017 un po' per caso, in uno studio radiofonico. Tra i due c'è stata subito una grande attrazione. L'attrice ha fin da subito apprezzato in Francesco sensibilità e ironia. Quel giorno, stando ai racconti della Crescentini, Motta non riusciva a toglierle gli occhi di dosso. Eppure la prima uscita ufficiale arrivò solo un anno più tardi, in quanto la Crescentini era inizialmente un po' frenata più dalla giovane età del cantautore che non dalla differenza anagrafica tra i due. Ad accomunarli ci sono molte cose, a partire da uno stile di vita un po' punk e naif. La proposta di matrimonio di Motta arrivò al Gianicolo, in ginocchio, come tradizione impone. Quel che ne seguì è invece molto meno canonico. Un matrimonio riservato, quasi segreto, a New York, dove per sposarsi basta andare al municipio, comprare le fedi e affittare i testimoni. Insomma, il classico matrimonio a stelle e strisce, in stile Las Vegas. Al rientro in Italia, la coppia ha poi deciso di svolgere una cerimonia simbolica nei pressi di Grosseto, una grande festa con amici e parenti. Dell'attrice romana Carolina Crescentini sappiamo praticamente tutto, non fosse altro che la sua carriera sul piccolo e grande schermo è costellata da successi importanti. Da ultimo quello di Mare fuori, che la vede protagonista dal 2020, la serie tv sta raccogliendo un incredibile seguito di pubblico ed è stata capace di raggiungere 105 milioni di visualizzazioni online in soli 30 giorni. Tra le recenti interpretazioni della Crescentini, degna di nota l'interpretazione in La bambina che non voleva cantare, dove interpreta la madre dell'artista Nada. Motta, invece, è nato a Pisa da genitori livornesi e nel 2016 ha pubblicato il suo primo album da solista, intitolato La fine dei vent'anni. Nel 2019 arrivò a Sanremo con il brano Dov'è l'Italia. Nel 2023 è arrivata una piccola apparizione in una puntata della serie I delitti del Barlume. Un'esperienza che lo unisce e accomuna ancora di più alla moglie Carolina.